Grazie mille, grazie per questa presentazione, grazie a Fondazione Faro che mi ha chiesto di tenere questa chiacchierata insieme a voi, grazie per essere qui presenti così numerosi. È una bella opportunità per me di condividere alcuni pensieri che da qualche tempo faccio su quanto e se, intanto se e quanto, sia possibile prendere in considerazione la mortalità facendoci aiutare da questo pensiero per la nostra vita, quindi non come carico di angoscia naturalmente ma anzi come possibilità di ricevere, come dice il titolo che abbiamo voluto dare a questa chiacchierata come dono, con la possibilità di ricevere dei doni. Ora noi partiamo un po' a monte in questo discorso perché molto spesso capita di leggere in questi nostri ultimi anni, forse decenni, che la morte è diventato un tabù, che abbiamo rimosso la morte. Come tutte le cose che diventano uno slogan, che leggiamo nei rotocalchi, che viene dato per scontato, invece forse è il caso di problematizzarlo. Proviamo a non dare nulla per scontato. Abbiamo sicuramente preso molto sul serio, forse troppo sul serio, una letteratura che è stata molto diffusa nel corso della seconda metà del Novecento, una letteratura soprattutto degli anni Sessanta. Mi riferisco per esempio ai libri importantissimi di Philippe Ariès sulla storia della morte e per esempio anche agli scritti di un sociologo, Goffrey Gorer, che ha scritto molte cose importanti. Ma che cosa emergeva anche dai loro scritti? una sorta di cesura, come se ci sia stata una sorta di età dell'oro in cui si poteva tranquillamente e pacificamente morire e che invece soltanto nella contemporaneità questa difficoltà sia diventata una difficoltà insormontabile. Da qui esce un po' questo slogan, questo luogo comune del tabù della rimozione della morte. Ora ovviamente questi studi sono stati importanti perché hanno messo in rilievo una difficoltà che poi adesso affronteremo che esiste nel nostro tempo. Ma se ci facciamo la rappresentazione che l'uomo possa avere un rapporto totalmente risolto con la morte propria e dei propri cari probabilmente stiamo sbagliando qualcosa. e a questo proposito voglio ricordare un altro autore, un altro libro che è Edgar Morin che nel 1951 scriveva L'uomo e la morte e nel suo libro lui parlava di un disadattamento fondamentale dell'uomo nei confronti della morte. Secondo Moren il disadattamento fondamentale era dato dal fatto che gli uomini a differenza degli altri animali sono usciti dalla predominanza della specie sull'individuo e hanno invece dato una grande importanza all'individuo. E quindi la morte è traumatica perché è la perdita dell'individualità. Ecco questo è quello che lui ci presenta. E da questo punto di vista la storia dell'umanità ci presenta moltissime strategie per cercare di trovare degli adattamenti a questo fondamentale uno degli adattamenti che ci è più noto perché ha una lunga storia ed è arrivato fino ai giorni nostri è quello, lui parla al plurale, delle religioni della salvezza. Naturalmente noi oggi pensiamo subito al cristianesimo ma anche prima del cristianesimo ci sono state altre religioni, altri miti che permettevano all'uomo di pensare ad una sorta di sopravvivenza della propria individualità dopo la morte fisica. Quella è stata una modalità naturalmente anche se sicuramente potente dal punto di vista della sua diffusione e della sua durata. Quindi è stata una risposta alla morte. Ma il mondo è molto vasto, la storia è molto lunga e noi abbiamo avuto, gli antropologi ce lo raccontano con i loro studi, innumerevoli risposte, strutturazioni diverse di risposte alla morte dell'uomo perché comunque la morte resta una ferita nel corpo sociale e questa ferita noi abbiamo bisogno di curarla, guardarla, medicarla affinché sia possibile continuare a vivere nonostante la morte. Quindi da sempre gli uomini cercano risposte. Quindi non banalizziamo la dimensione del tabù, rimozione eccetera, cioè è un problema con il quale facciamo i conti dall'origine dei tempi, non è un problema solo della nostra cultura. Ora possiamo però chiederci a fronte di questo se esiste nella nostra cultura una sorta di difficoltà oltre al disadattamento antropologico, che è un fenomeno direi piuttosto universale, possiamo chiederci se noi abbiamo aggiunto un'altra difficoltà. E qui vengono tutti gli studi di coloro che si sono occupati di tanatologia, tanatologia, tanatos, morte, logos, discorso, discorso sulla morte e ci sono moltissimi autori che hanno riflettuto in tempi più recenti su questo tema. E io credo che in realtà forse parlare di tabù o di rimozione non sia così corretto. Io credo che nel Novecento ci sia stata, e adesso cercheremo di capire perché, proprio una scelta piuttosto consapevole, cioè un tentativo di dare un po' per la prima volta nella storia una risposta razionale al fenomeno della morte umana, una risposta che presumesse di poterla in qualche modo, di poterne rimandare il pensiero fino sulla soglia e quindi di respingere un po' più lontano, togliere centralità per così dire al memento mori, all'idea della morte così presente nella vita come era stata in altre epoche. Ora, perché abbiamo potuto fare questa scelta? Grazie agli straordinari progressi della medicina contemporanea. Se pensiamo all'allungamento della vita media ne capiamo immediatamente il motivo. Considerate che nel 1950 la vita media era di 65 anni, nel 2011 la vita media era di 85 anni. Nella storia dell'umanità non c'è mai stata in così poco tempo un così grande aumento dell'aspettativa di vita. Questo naturalmente in sé è un fatto molto positivo, ma come dire, che cosa è accaduto? È accaduto che visto che la medicina poteva salvare molte vite, anche talvolta in estremis, si è cominciato a pensare che la medicina potesse gestire la morte. Quindi in tanti luoghi sono cambiati, si è cominciato a portare le persone a morire in ospedale, nel senso che c'era sempre la speranza che la medicina potesse salvare delle vite. Mentre si delegava quindi la gestione della morte alla medicina, naturalmente sono state perse delle competenze, delle competenze di gestione della morte che appartenevano in parte alle famiglie e in parte alle comunità. Certo le comunità e le famiglie erano diverse, le famiglie erano molto più allargate, le comunità erano molto più piccole, no? Quindi ci sono stati poi tantissimi cambiamenti sociali che hanno cambiato questa cosa. Ma il fatto che si è cambiato il luogo della morte, cioè che si sia andati nel corso del Novecento a morire in ospedale, ha fatto perdere delle competenze. E insieme alle competenze sono state perse anche le parole per dirlo. Quindi noi abbiamo in qualche modo interiorizzato quella che è stata la lettura, l'interpretazione della biomedicina del fenomeno morte. E qual è questa interpretazione? La biomedicina vede la morte come un fenomeno biologico. Al centro dell'attenzione c'è l'istante dell'exitus, il momento del decesso. Mentre è rimasto totalmente nell'ombra il processo del morire, quello di cui si occupa Fondazione Faro. Il fatto che noi in realtà la cosa che più ci interessa è proprio questa, cioè il processo del morire, il fatto che noi viviamo questo processo. Quindi fa totalmente parte della nostra vita. Mentre nel momento dell'exitus non sappiamo cosa dire. Un filosofo del Novecento esistenzialista, Vladimir Yankelevich, diceva che il pensiero si annichila davanti all'idea dell'exitus. Il pensiero del nulla, diceva, è un nulla del pensiero. Noi non riusciamo ad elaborare qualcosa rispetto a questo nulla. Mentre abbiamo tante cose da dire sul processo, che è un processo che certo ha un versante biologico, ma un versante culturale, sociale, psicologico, spirituale, e che quindi è molto più complesso della lettura che normalmente ne fa la biomedicina. Di questa lettura della biomedicina diceva una cosa molto interessante anche Ziegwood Bauman, sociologo che è scomparso qualche anno fa, per intenderci è il teorico della società liquida, sicuramente ne avete sentito parlare, e in un suo bellissimo libro sulla morte Bauman dice che la medicina ha in qualche modo, o perlomeno la nostra cultura, ha scomposto la morte nelle sue cause. Cosa vuol dire questo, che l'ha scomposta nelle sue cause? Vuol dire che quello che ci si aspetta dalla medicina è che una causa dopo l'altra rimuova le cause di morte. Vi sarà sicuramente capitato, quando è morta una persona a voi vicina, la maggior parte delle persone che vi chiamano, che si fanno le condoglianze, eccetera, vi chiedono di cosa è morto. Questa domanda di cosa è morto si riferisce proprio a questo tema, cioè una causa dopo l'altra la medicina sconfiggerà. Allora sappiamo che naturalmente c'è un si muore che è incancellabile, ma la speranza che la lettura biomedica della morte ci dà è non io, non ora, non qui, perché io ora e qui posso sempre essere salvato. Purtroppo questa è un'illusione, non è vero che io ora e qui posso sempre essere salvato. E quindi in qualche modo noi dobbiamo secondo me un po' riappropriarci di quello che è invece tutta la riflessione che circuite intorno non all'exitus, ma al processo del morire. Abbiamo bisogno di ragionare su questo. Consideriamo che tra l'altro a complessificare questa delega alla medicina ci sono stati moltissimi altri fenomeni nel corso del Novecento, li cito molto sinteticamente. L'urbanizzazione è uno di questi, il fatto che le città grandi e numerose siano sempre più il luogo dove le persone vogliono vivere ha fatto sì che molti riti che invece erano presenti nelle città più piccole e nelle realtà dell'Europa moderna siano in qualche modo stati in alcuni casi semplificati in altri spariti. Io mi ricordo per esempio nella mia infanzia mi ricordo i teli violacei che venivano posti sulle case quando moriva qualcuno, i tavolini con le firme. C'è una partecipazione diversa della comunità alla morte. Gli annunci, gli stati a lutto sicuramente e questi esistono ancora nelle città più piccole, ma dove l'urbanizzazione è più forte tutto questo è venuto meno. E se ci fate caso anche i carri funebri sono sempre più stilizzati in modo da scorrere nel traffico senza che ci si renda conto che c'è stata una morte. Poi c'è stato un grande processo di secolarizzazione che riguarda un po' tutti, quindi questa dimensione della secolarizzazione ha diminuito l'efficacia di quella risposta di cui parlava Morenne nel suo libro, cioè delle religioni della salvezza. è stato progressivamente meno efficace, non per tutti naturalmente, ma per molti, quella narrazione non è più una narrazione efficace, non ha più un valore consolante. E quindi anche quello è un cambiamento sociale di grande rilevanza di fronte al quale noi ci troviamo. E poi un'altra cosa di cui parlava Bauman, cioè la frammentazione. Noi siamo sempre più isolati, soprattutto nelle grandi città, quindi difficilmente partecipiamo al funerale degli altri, al dolore degli altri, a meno che non siano nostri familiari o nostri amici stretti. Cioè c'è sempre una maggiore solitudine sociale e questo anche ha impoverito i rituali. Quindi noi abbiamo delle risposte sostanzialmente un po' povere nei confronti del fenomeno della morte. Tutto questo ha un po' un'origine, come vedete il discorso è molto complesso, cioè ci sono varie sfaccettature, eccetera. Qualcosa ha già cominciato a succedere con la Prima Guerra Mondiale. Nella Prima Guerra Mondiale c'è stato un grande cambiamento nella gestione della morte e del lutto rispetto all'epoca precedente che era quella della cultura vittoriana che in Europa aveva invece dato grande importanza alla morte e al lutto. Aveva codificato il lutto in modo molto complesso e aveva dato un grande sviluppo ai cimiteri monumentali. Quindi con la Prima Guerra Mondiale che ha visto una intera generazione di giovani uomini morire al fronte, alcune cose sono cambiate. Intanto il desiderio di costruire una tomba di famiglia, che era quello che costruiva la necropoli napoleonica, quella monumentale che tutti avete presente, diminuisce, per cui dal Novecento in poi, poco per volta, gli ampiamenti dei cimiteri sono stati palazzi di loculi. Quindi la bruttezza si è sostituita alla bellezza delle necropoli, non c'è più stata l'arte nei cimiteri, questo è un po' un circolo vizioso, le persone hanno coltivato più una memoria della mente e del cuore, perché quel luogo non viene ritenuto un luogo dalla stragrande maggioranza delle persone dove sia consolante o piacevole recarsi. Quindi lì qualcosa è cambiato. Poi siccome durante la Prima Guerra Mondiale nei paesi belligeranti le donne sono andate a lavorare al posto dei loro uomini, tutta l'apparato degli abiti a lutto della vedova, il fatto che la vedova non poteva uscire di casa per un tot tempo, le visite di condoglianze, eccetera, eccetera, tutto questo si è naturalmente molto impoverito, poco per volta, perché erano altre le esigenze, non bisognava neanche deprimere il morale delle nazioni belligeranti, quindi lì sono cambiate delle cose. Nelle lettere degli ufficiali alle loro famiglie noi leggiamo spesso non piangetemi, non piangetemi in epoca vittoriana sarebbe stato un impensabile come raccomandazione, ma lì è cambiato qualche cosa di importante. Ora è chiaro, si era in guerra, cioè c'erano tante, ma la guerra ha funzionato da acceleratore del cambiamento. Goffrey Gohrer, che negli anni Sessanta ha scritto un libro sul lutto, ha fatto anche una grande ricerca, metteva in luce la differenza tra quando lui nel 1905 aveva perso il padre e tutti gli avevano me, gli avevano cucito un bottone nero, la fascia nera, in modo che tutti si rendessero conto che lui era in un momento di fragilità ed era in lutto. Tutto questo lui lo ricorda molto bene ed era bambino. Quando negli anni Sessanta ha perso il fratello, la cosa che più metteva in luce nel suo libro è come ci fosse un'aspettativa sociale molto forte che lui uscisse presto dal lutto. Esci, vai al cinema, andiamo a cena insieme, smettila di piangere. E lui appunto mette in rilievo questo cambiamento che indubbiamente indubbiamente c'è stato. Quindi, se voi immaginate una cultura come una specie di coperta patchwork, sapete le coperte patchwork quelle cucite con i quadrati di diversi colori dalle nostre nonne, bisnonne, eccetera, eccetera, fatte all'uncinetto, eccetera. Immaginiamo che ogni cultura abbia sia una coperta patchwork e quindi ogni quadratino riguarderà un certo ambito della vita per cui ci sarà il quadratino dei giovani, della nascita, del matrimonio, della morte, del lavoro, eccetera, eccetera. Una tematizzazione. Allora, nella nostra cultura, se la immaginiamo così con questa metafora, noi troveremo che il quadratino per esempio dell'infanzia è un quadratino molto denso con un tessuto molto spesso, lì che significa metaforicamente, che lì c'è molto pensiero, molta elaborazione, molta attenzione, mentre se andiamo a vedere com'è il quadratino della morte ci rendiamo conto che è di un tessuto molto liso e molto poco, come dire, molto poco spesso, molto consunto. Perché? Perché effettivamente c'è una scarsità di elaborazione su questo tema, una certa mancanza di pensiero prima di tutto. E questo, se volete, è il problema aggiuntivo, quello che appunto per questo insieme di situazioni che ho cercato di riassumervi un pochino, questo questa difficoltà che noi abbiamo nella nella nostra cultura più del disadattamento generale nell'avere a che fare con la morte. Ma e arriviamo al dunque, arriviamo così al tema del dono, dei doni della morte. che era quello a cui volevamo arrivare. E innanzitutto chiediamoci è possibile che pensare, perché anche questo non diamolo per scontato, no? Pensare di più alla morte, elaborare di più, riflettere di più, condividere di più, ci dà qualcosa di buono o ci aggiunge solo dell'angoscia? Perché è chiaro che se il problema è che ci aggiunge dell'angoscia abbiamo finito da, cioè il discorso si chiude qua, Torino spiritualità possiamo farla finire oggi, cioè non ha senso parlare della morte. ma se siamo tutti qua in Torino spiritualità a parlare di morte vuol dire che forse una riflessione nel nostro tempo stiamo cominciando a farla e che forse abbiamo capito che se elaboriamo di più siamo più protetti di fronte a comunque una difficoltà che abbiamo detto essere una difficoltà antropologica e in che modo? Se noi costruiamo una certa familiarità con il pensiero della morte questo non ci protegge naturalmente dal dolore né per la nostra eventuale morte né per la morte delle persone che ci sono care non è questo forse quello che da un certo punto di vista ci può essere utile è un certo apprendimento a lasciare andare quindi in qualche modo non soltanto per quello che è la morte fisica diciamo ma per tutte quelle che sono le perdite della vita se noi impariamo in qualche modo a lasciare andare forse ci confronteremo comunque con il dolore della perdita ma non avremo meno probabilità di sprofondare nella disperazione perché spesso i nostri contemporanei si schiantano di fronte alla morte di fronte alla propria morte di fronte alla morte degli altri proprio perché non era in qualche modo entrata nel novero delle possibilità e da questo punto di vista forse ci può aiutare farla entrare nella nostra riflessione poi una cosa di cui tra l'altro ci parlano spesso coloro che con la morte hanno a che fare tutti i giorni soprattutto gli operatori di cure palliative noi nella morte possiamo vedere una sorta di misura di tutte le cose nel senso che la morte essendo un po' il limite per antonomasia la finitezza con la F maiuscola può funzionare un po' da confronto con quelle che sono le piccole frustrazioni a cui noi andiamo incontro nel corso della nostra vita a dare una misura alle frustrazioni magari ad arrabbiarci di meno ma magari anche a accorgerci quando siamo felici perché in questo grande decorsa che è diventata la nostra modo di vivere talvolta neanche ci accorgiamo di essere felici quindi non diamo valore a questi momenti il pensiero della finitezza è fondamentale da questo punto di vista ci aiuta a dare valore e attenzione voglio aggiungere una cosa non è tanto la morte cioè non è tanto la come dire la consapevolezza della morte quanto la consapevolezza della mortalità perché noi non riusciremo ad avere una consapevolezza della morte se la morte non è attuale non posso se sto bene sono in mezzo alla vita avere veramente a che fare con la morte solo quando la mia morte o la morte di una persona cara è attuale io potrò cominciare a lavorarci sopra ma quello che posso fare è invece avere a che fare e lavorare sopra il tema della mortalità della finitezza della mia vulnerabilità e con il tema della vulnerabilità arriviamo a un altro dono che a mio modo di vedere ci fa la morte che è un versante si trova su un versante più etico nel nel senso che se noi fossimo tutti immortali ad ogni singolo uomo in ogni nella totalità dei tempi accadrebbe tutto quindi le nostre azioni avrebbero una scarsa rilevanza la nostra responsabilità per altri sarebbe sostanzialmente irrilevante comunque a tutti gli uomini accadrebbe tutto ma noi siamo mortali Borges diceva che la morte fa preziosi e patetici gli uomini scriveva questo e quindi se noi siamo preziosi e patetici le nostre azioni nei confronti degli altri invece hanno conseguenze hanno conseguenze sulla loro vita hanno conseguenze sulla nostra vita come ben sanno gli orientali quando parlano di karma cioè quindi il fatto che io sia mortale che gli altri siano mortali fa sì che come io mi comporto nel mondo abbia conseguenze quindi la consapevolezza della mortalità della vulnerabilità e della mortalità ha veramente a che fare con l'etica se io sono consapevole della mia vulnerabilità oltre che di quella degli altri più facilmente sarò portato a come dire a muovere verso la solidarietà verso l'empatia verso l'ascolto verso l'attenzione e non verso la violenza intesa naturalmente in senso molto lato quindi se vogliamo in qualche modo anche avere una un mattoncino per giustificare un'etica laica io credo che la consapevolezza della finitezza sia un mattoncino fondamentale per la costruzione di un'etica laica molto più dei generici appelli all' amor dell'umanità quindi c'è una dimensione etica in questa consapevolezza della morte e poi chiudo ricordandovi che se noi non fossimo mortali probabilmente anzi certamente non esisterebbe la cultura perché la cultura e questo è il grandissimo dono della mortalità dono collettivo la cultura scaturisce proprio dal bisogno che ha l'uomo di trovare un suo spazio e tempo in cui proiettarsi oltre il limite oltre la consapevolezza della propria se volete pochezza limitatezza finitezza oltre 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 Grazie a tutti